Restare a casa durante il Natale. È l'appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per arginare la pandemia. Il direttore dell'organismo Hans Klug ha sottolineato che non vale la pena uscire con il rischio di infettarsi. C'è una differenza tra ciò che è permesso fare e ciò che dovreste fare, ha aggiunto, appellandosi quindi al senso di responsabilità individuale, a prescindere dalle restrizioni e alla mobilità adottate dai governi. In Italia sono 17.572 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione Civile. I tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati quasi 200.000, in aumento di 35.000 circa rispetto al giorno prima. Il tasso di positività è dell'8,8%, il leggero calo rispetto al 9% di martedì. Intanto esauriti i biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli oggi e sul sito di Trenitalia restano pochissimi posti anche per domani e domenica. I treni viaggiano comunque al 50% di capienza per rispettare le norme anti-covid e il numero dei convogli è il 30% di quelli che viaggiavano prima dell'epidemia. La situazione nelle stazioni è comunque estremamente tranquilla al momento, senza file e con poche persone. In stazione centrale a Milano diversi sono i viaggiatori che transitano per raggiungere gli aeroporti. Alla stazione centrale sono pochissimi passeggiari presenti che arrivano poco prima della partenza dei loro treni. Si tratta per la maggior parte di persone che tornano a casa.